Ciao a tutti, io sono Elisa e sono una casalinga, una casalinga che ama cucinare e ama mettersi in gioco. Appunto per questo ho acquistato, mi sono regalata il corso del maestro Andrea Di Giglio per poter mettermi in gioco facendo delle ricette difficili. Quindi difficili ma che con l'aiuto del maestro il quale ti spiega in maniera semplice, in maniera ottima come eseguire una ricetta la si può fare anche se non si è del mestiere e quindi non si è un professionista pasticcere. Questo corso è un corso di pasticceria lievitata quindi ti insegna a fare una colomba, di fare il panettone, i croissant, cornetti e anche come gestire e come creare il lievito madre. Questo corso ha un costo non elevato, un costo buono perché all'interno appunto di questo corso abbiamo tantissime video lezioni con il maestro e anche dei libri. Cosa dire? Acquistatelo perché potrete vedere come lavora bene il maestro e quanto amore dà per eseguire in maniera ottima le ricette. Si vede, il lavoro lo fa con il cuore. Ringrazio lo staff e anche la disponibilità e la generosità dello chef.